Ciao raga, benvenuti da Gianna Prattino Basso GMR, rieccoci in un nuovo appuntamento di FIFA 20 con la compravendita, dove oggi parleremo ancora di investimenti in vista dei prossimi TOTS e poi vi farò vedere alcuni giocatori per fare compravendita instant, fare credit facili e veloci, sempre con overall bassi. Questa settimana come abbiamo visto sono stati rilasciati i TOTS della Liga Santander, quindi del campionato spagnolo, quindi per chi avesse investito su carte rare appunto di questo campionato, con l'uscita delle nuove SBC e con il probabile rialzo dei prezzi si potrà fare un buon profitto. Per chi invece ha investito su carte di altri campionati tipo Serie A e Bundesliga, li possiamo tenere ancora depositati nella lista trasferimenti, per poi quando escono i TOTS e le nuove SBC li andiamo a rivendere, quando ovviamente ci sarà il rialzo dei prezzi. Oppure se vediamo che il rialzo dei prezzi già c'è stato, come nel caso della Serie A, perché io avevo investito su carte rare Serie A Team, ho visto che c'è stato un leggero rialzo dei prezzi e quindi sono andato a rivenderle tutte. Detto questo passiamo ai giocatori per fare compravendita instant, praticamente io vi consiglio di fare compravendita su questi tipi di giocatori, sono della Serie A per fare compravendita subito e sono Pavoletti, sono Mandragora e sono Saponara, quindi 3 giocatori italiani, 3 giocatori di overall bassi e 3 giocatori della Serie A Team. Sono giocatori che vengono presi all'asta ovviamente perché snapperandoli non serve, visto il loro prezzo basso, il loro prezzo basso di vendita, quindi noi li andiamo a prendere all'asta sempre con la tecnica di fare aste di massa, quindi andare a prendere tante carte per poi listarle intorno, vedete, saponare intorno ai 450-500 perché adesso, in questo momento, questo è il suo prezzo di vendita. Però si può sempre rialzare, infatti, tipo i vari Pavoletti, io alcuni li ho venduti ieri sera anche sui, anzi ieri notte, tra i 6, 350-600 e tra i 6, 650, però perché ieri notte comunque veniva venduto di più. Invece stamattina sono andato a listare le 3, 450-500, però se li prendiamo sempre al prezzo più basso che è di 350 in questo caso di Pavoletti, comunque noi un 120-125 crediti circa li possiamo fare. Quindi su 10 carte comunque sono più di 1000 crediti, quindi non male per fare una compra vendita veloce perché poi le aste su questi giocatori sono più semplici perché hanno meno concorrenza. Ovviamente se andiamo su un giocatore come Santon che si rivende attualmente intorno ai 7, 750, adesso vi faccio vedere, eccolo qui, 7, 750, allora qui l'asta ve la vanno a ribattere. Però se già voi partite da 300, perché in questo caso visto che 9,75 parte da 300 l'offerta, possiamo arrivare al massimo a 4,50, comunque un profitto lo facciamo sempre. Però qui dobbiamo ovviamente andare a ribattere poi, visto che si rivende di più, ce lo ribattono il prezzo. Invece Mandragora, Saponara, Pavoletti sono giocatori che comunque si prendono abbastanza facilmente, soprattutto di notte, infatti tutti i vari Pavoletti che avete visto io li ho presi tutti di notte. Sono andato a fare asse di mass, qualcuno l'ho persa, però la maggior parte li ho vinti e stamattina poi li ho listate tutte a 4,50, 500 e quindi ci ho fatto il mio bel profitto. Quindi non male questo tipo di compra vendita, vedete come mi trovate, scrivetelo nei commenti se volete avere qualche consiglio. Io vi saluto, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale attivando la campanellina. Intanto ringrazio ancora i nuovi iscritti, ringrazio ancora coloro che hanno visualizzato i miei video, a quelli che hanno commentato. Vi invito a lasciare un like e soprattutto vi invito a seguirmi su Twitch dove domani martedì sarò in like. Grazie mille da Giorno a Paterattino Basso Gmr, ciao!